salve ragazzi eccovi qua bene sono qui in appoggio ecco la canna questa qui l'ho appena tirata su e quindi è slamata io quando vi dico sempre che siete i primi a saperlo non scherzo ecco qua bene slamata appoggiato la canna va bene vi faccio solo vedere una cosa ecco con cosa l'ho presa non so se si vede vediamo se si vede cioccolato bianco questo oggi è stata la mia io d'inverno d'inverno lo uso spesso insieme chiaramente al mio scopex ok poi naturalmente sacchettini in pva con 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 il mio method eccolo qua è rimasto poco perché oggi ne ho usati praticamente uno due tre quattro secchi di questo ti metto questo è l'ultimo che mi è rimasto va bene ok andiamo a vederla che non l'ho ancora vista praticamente neanche io l'ho messa nel mattoressino l'ho slamata e ho portato la canna qui per rimettere sulla nuova bolless la nuova bolless la metterò su dopo adesso andiamo a vedere la carpa mi sa che non vediamo niente quindi farò una cosa accendo accendo la macchina e così accendiamo accendiamo i fanali ok bene andiamo andiamo a vedere visto che non so neanche io com'è allora ragazzi ve la faccio vedere ve la faccio vedere a voi come la vedo io per la prima volta l'ho tirata su di notte al buio no però non è male non è male non è male non è male mi pare la bella carpa bene andiamo avacco bene ragazzi andiamo a vederla bene mi pare mi pare che non sia male me la faccio vedere a voi come bene la vedo io per la prima volta eccola qua non è la brutta carta eh mi vede bella ti vede bella con un po' come una piccola bolless al cioccolato bianco eccola qua piccola avevo una 12 penso eccola qua direi che è Direi che è una bella calma, infatti ho fatto fatica tirando su, ha mangiato praticamente sotto un'albero, abbiamo fatto un tiro alla fune e ce l'ho fatta, ecco la bocca, ecco bella calma, ha un freddo, un freddo cane, lei è praticamente ghiacciata, però, però chiaramente mangiano, ok, facciamo l'ultima, l'ultima foto, dall'altra parte, eccola qua, e poi, e poi andiamo a liberare, sotto il foto, svolgono la faccia, in questa, bella, va bene ragazzi, proviamo ad andare a liberare insieme, ci proviamo, magari vedete qualcosa, dai proviamo, andiamo a provare, vediamo se riusciamo, se riusciamo ad andare a liberare insieme, non l'abbiamo mai fatto questo, quindi ci proviamo, ci proviamo, allora, dove la liberiamo? La liberiamo qua, chiaramente il problema, il problema qua, di questi, dei nostri canali, è che abbiamo degli argini altissimi, e quindi, proviamo a farla cadere, ok, eccola, eccola, la vedete? E' andata, eccola la, eccola la, vabbè, io, io ho cercato di fare il mio meglio, ok ragazzi, eccoci qua, bene, anche oggi vi ho fatto vedere una carpa, una bella carpa, peccato che è tutto di notte, quindi abbiamo, ho visto pochissimo anch'io, quasi praticamente come l'avete visto a voi, e quindi, va bene, comunque il divertimento, il divertimento c'è stato, va bene ragazzi, vado, vado a mettere giù la canna, e magari ci rivediamo, ok, alla prossima!